Dopo cinque anni dall'attivazione del senso unico alternato, via Coroglio torna percorribile in entrambe le corsie di marcia. La strada ha riaperto al traffico oggi dopo la realizzazione di tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza del costone. Il promontorio di Coroglio era venuto chiamato Monte Ricotta, quindi significa che già da allora, dal Settecenti, sapeva che per la conformazione geologica dei posti è un posto che presenta delle difficoltà. Difficoltà che sono testimoniate da una serie di interventi che si sono avuti dal 1997, mentre ad oggi che hanno riguardato sia la parte pubblica del versante, sia molti ultimi in tutta la parte privata, nel quale il Comune è dovuto intervenire anche in danno con i privati, quindi è stata un'operazione complicata. In questi cinque anni sono stati fatti i lavori di messa in sicurezza di parte di Coroglio, è stata messa faticosamente anche a termine la procedura tecnico-amministrativa che era necessaria per l'apertura della strada, anche con l'emissione dei certificati necessari di collaudo. Abbiamo avuto il 2 dicembre la certificazione della Dolomiti Rocce, che gli interventi erano efficienti, che funzionavano, e quindi subito abbiamo attivato l'apertura della strada, che è un'importantissima strada di collegamento tra Posillipo e Giù e Bagnoli. La riapertura di via Coroglio è solo l'ultimo di una serie di interventi per la sistemazione delle strade che l'amministrazione comunale sta portando avanti. Segue infatti quelli già realizzati in via Manzoni, via Santa Maria Cubito e via Renaccia, alla riapertura di via Nicolardi e quella relativa al passaggio dei mezzi pesanti sul ponte di via Cilea. Inizieranno a breve anche i lavori in via Orsolone ai Guantai, Corso Secondigliano ed in altre arterie cittadine. Intanto proseguono velocemente le operazioni di pronto intervento stradale effettuate dal personale di Napoli Servizi.